Amici di Milan.soccer, buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento a Terrazza Milan, l'appuntamento quotidiano con i rossoneri. Milan.soccer e Milan in tasca e vi dà il buongiorno tutte le mattine, sette giorni su sette, anche la buonanotte. In playlist trovate favole, le favole per i bambini rossoneri. Dunque, vi voglio, voglio iniziare, voglio far sentire una cosa che in qualche modo mi ha ricordato il mio stato d'animo, quello rosso-nero, non solo questa mattina, ma anche nelle ore precedenti. Ascoltate. Senti, Gastani-Frinzi, lo sai che se ti trovo in giro in macchina io ti tiro sotto? Amore, ma cosa dici? Tieni giù le mani, porca di quella puttana! Ve lo ricordate? Un gran film, Il Cosmo sul Comò, Aldo Giovanni e Giacomo, e diceva proprio questa frase, diceva proprio questa frase qui, diceva questa frase... Io lo sottò? Amore, ma cosa dici? Tieni giù le mani, porca di quella puttana! Eh sì, perché questo è il sentimento che ho nei confronti di chi ha iniziato a mettere le mani addosso al Milan. Il Milan non si tocca. Allora, pseudotifosi, andatevene. Giornalai, muti. Sono due anni e mezzo, due anni e mezzo. Vittoria, vittoria, vittoria. Scudetto. Proprietà che ci hanno salvato. Che dire ancora? Debiti zero, pronti per il salto di qualità, giovani di prospettiva, top player, Mignan, Tevernandez, Leao, Paolo Maldini nel ruolo giusto. E tutto questo dovrebbe essere vanificato da cosa? Da una sconfitta a Londra contro il Chelsea senza... Li contiamo insieme? Mignan. Non parliamo di Florenzi, non parliamo di Ibrahimovic. Parliamo di Calabria. Parliamo di Kier. Parliamo di Tevernandez. Vado avanti. Leggo cose sul Milan allucinanti. Allucinanti. Siamo lì pronti a rivincere lo Scudetto. Abbiamo un gioco divertente, una squadra coesa, unita, un grande allenatore, serio, serio, che capisce di calcio, che non fa cose da grande fratello, cose da velline una volta si diceva, adesso non si dice più da velline cosa si dice. Non abbiamo nemmeno vags da OnlyFans. E noi ci permettiamo di leggere... Beh, stupido io che leggo i social, non lo farò mai più. Ne va della salute mentale. E quindi dobbiamo leggere che cosa? Vogliamo andare a vedere? Il Milan è lontano, perché chi è? Chi è vicina? Chi è vicina? L'Inter? Chi è vicina? La Juventus? Chi è vicina? Alla Premier League. Ma di cosa stiamo parlando? Quell'altro imbecille che dice il fallo laterale, 5 metri avanti. Ma di che cosa stiamo parlando? Ipocriti. Ipocriti. Di cosa state parlando? Ipocriti. Il Milan non si tocca. Tiene giù le mani, porca puttana. Il Milan si tifa. Noi abbiamo questo ruolo. Poi possiamo criticare, perché è chiaro che ci sono cose che non mi sono piaciute nemmeno a me. Figuriamoci, ho fatto quanti chilometri ho fatto. Sono andato a Londra, sotto la pioggia, a tifare il Milan. I ragazzi hanno... Quella è una curva. Tutto lo Stanford Bridge muto, mentre tutta la Sud, e non solo la Sud, perché non è che i tifosi siano solo la Sud. Mentre tutti i tifosi del Milan cantavano, forza diavola le, vivo solo per te. Io non ti lascerò, sempre con te sarò, e non mi importa se. Io finirò nei guai, unico amore sei, non ti ho tradito mai. Questo è il canto. Si canta, si canta. E cosa facciamo? Critichiamo una squadra perché una volta ha perso 3-0? Perché magari se la mette solo 1-1 può andare a finire, chissà come può andare a finire. Cosa abbiamo scoperto? Che la Premier League è più forte della Serie A? E invece? E invece andiamo a vedere i giornali e ci ritroviamo. Charles de Catteler. Oh! Che cosa deve fare Charles de Catteler? Viene da un calcio diverso, con allenamenti diversi. Ha più o più, quanto ha? 20 anni, 21 anni. Ci vuole tempo, ci vuole tempo. Le domande me le faccio anch'io, ma ci sono delle regole. Se all'inizio nella lista Champions non sono stati inseriti certi giocatori, oggi non li puoi più inserire. L'unica regola che ti dà la Champions League è che se il tuo portiere titolare si fa male, puoi sostituirlo o con quello che hai messo in lista, oppure puoi chiamarne un terzo. E questo ha fatto il Milan, ha chiamato Tatarusano. Che Tatarusano non sia Magnano, questo lo sappiamo tutti. Ma Magnano si è fatto male. Che Balloturè non è Teo Hernández, lo sappiamo tutti. Ma Balloturè si è fatto male. Ma Teo Hernández si è fatto male. A proposito, una buona notizia, contro la Juventus ci sarà. Mentre gli altri infortunati, gli altri che stanno per rientrare, ancora non si sono allenati in gruppo. Quindi ieri Teo Hernández si è allenato in gruppo. E ci sarà contro. Questa è una buona notizia. Invece se c'è una brutta notizia, si è infortunato De Sciglio. La brutta notizia è che era meglio che giocassi. De Sciglio. Locatelli. Juventino nell'anima, Locatelli. Locatelli. Vabbè, torniamo a noi. Torniamo al fatto che il Milan contro la Juventus dunque chiaramente schiererà una formazione che questa volta il mister ha cercato di non far trapelare. Tra tutte quelle che si leggono, secondo me, uscirà fuori una sorpresa. Pioli pensa a qualcosa di straordinario. Pioli pensa a un colpo. Sarà il colpo di Pioli. Soprattutto perché è stato offeso, umiliato, per una partita persa. Non vedevano l'ora. Non so veramente. Non vedevano l'ora. Non vedevano l'ora i giornali, non vedevano l'ora i pseudotifosi che vivono per stare su questi quattro social di merda, ad aspettare che qualcuno... Andateci voi ad allenare il Milan. Andateci voi a fare gol al Milan. Mi dispiace, ma io sono così. Il Milan non si tocca. Il Milan non si tocca. Non so cos'altro dire oggi. Quindi la chiudo qui perché sono veramente amareggiato, arrabbiato e l'unica cosa che mi viene da dire è questa. Amore, ma cosa dici? Tieni giù le mani, porca di quella puttana!